Renzo Verniani, allenatore della Nazionale di Calcio Amputati, questi ragazzi sono favolosi, i ragazzini li vedevano con ammirazione giocare oggi a Pescara? Sì, quando vedono delle persone che cercano di superare i propri limiti sicuramente è sempre entusiasmante la cosa. Qui a Pescara in vista della grande partita con la Turchia? Sì, dobbiamo andare in Turchia a giocarci in mondiale, noi siamo un po' ad un livello medio e quindi ci dobbiamo allenare bene, oggi è un grande test con questi ragazzi che corrono veramente veloci e per noi è tanta roba. Che cosa vuole dire a qualcuno che ha subito un'amputazione e non ha il coraggio di provare questa emozione di tornare a giocare a calcio? Sicuramente non bisogna fermarsi in nessun posto, noi cambiamo, il nostro corpo cambia sempre e continuamente e dobbiamo adattarci, ma cercare di uscire, giocare, fare sport, tutti possono fare sport e il messaggio che diamo è questo, fare sport, muoversi, giocare e vivere una vita normale.